Benvenuti a tutti su questa terza puntata di questa poesia improvvisata campitanese in YouTube. E' una cosa che è questa questione del fenomeno del doppio bipartitismo di questa poesia improvvisata campitanese, che a differenza di questa poesia improvvisata locutoresa, che si precede sempre in tre spattesi, sia nel metro che mi impera, sia in spattesi di questa cantata, se la poesia improvvisata campitanese si precede sempre in due spattesi. Infatti, sul mottetto lungo si precede in sterrina e copertanza, che sono due spatti fondamentali. Questa cantata è sempre prezia in due spattesi. In questa prima parte si fa di una mottettata, di un mottetto lungo, appunto. In questa seconda parte, invece, tenendo questa versata, cioè verso cruzoso, che è in rima alternata a b b a, e accompagnato questa chitarra, a differenza invece di questa prima parte che è accompagnata su basso e contro. Sul dialogo puro che avvene l'interno, quindi, tra i scantatori si è alternato in due spattesi, tra il primo e il terzo, il secondo e il quarto. Questo è un fenomeno interessante, questo di due che torna, come si torna su tre, in questa poesia improvvisata locutoresa. Sono due fenomeni, costruzoso, costruzoso, che accompagnato e piccato per mano, quando ti portare questa Sardegna a innanzitutto. Comunque, per qualsiasi cosa, si invito a commentare, a se donare suggerimenti su tutti quelli che vogliono, in una pagina su Facebook pure della nuova di Alfa Editrice, e vi ringrazio a tutti su questo. Pogistana è insattore, dove uscire insattore. Adios.